Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di sabato 16 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi che in prima pagina porta naturalmente un titolo che riguarda il maltempo che sta colpendo in questi giorni anche la provincia di Belluno. Il vento torna a far paura, tetto piomba su due auto. Questo il titolo. Un ferito a feltre, sfiorato un altro automobilista. Sassi e alberi hanno bloccato molte strade. Oggi di nuovo scuole chiuse nei paesi della Valbelluna, nel feltrino in Alpago e a Belluno. Riassume il Corriere delle Alpi. L'ondata di maltempo non accenna placarsi. Ieri è tornato fortissimo il vento e si è abbattuto soprattutto nel feltrino. Ma ha divelto alberi un po' ovunque. Blackout nel Castionese e verso il Nevegal per la caduta di piante sulle linee elettriche. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. E oggi all'unni ancora a casa, in molti comuni, da Belluno al Pago, a Feltre e in tutta la Valbelluna. E il tema maltempo, naturalmente, torna anche sulle prime pagine del giornale. Vediamo alcuni titoli, sassi e alberi in strada, frane, fiumi, gonfi, sale di nuovo l'allerta, misurina isolata. Molti interventi dei vigili per le vie bloccate e gli allagamenti. Oggi di nuovo scuole chiuse a Belluno, feltrino e Alpago. Salta la fiera di San Martino, rinviata in forma 2019. Protezione civile comunale, operativa dalle 5 del mattino nel capoluogo. Feltre, tetto vola sulle auto in transito, sulla panoramica automobilista ferito. Il vento violentissimo ha danneggiato l'ex liceo del Piaz. Il piazzale della Lana, su una strada provinciale 1 a Vass, cadute alcune piante. Ad agordo 120 mm, è il top delle precipitazioni. Frana, sulla strada comunale di Carfon, torrenti in piena a Cincenighe. Molti problemi in agordino per le forti piogge e il vento. Ora si teme anche per la provinciale 346 tra Canale e Falcade. Bortoluzzi, consigliere delegato della provincia, tutti i gestori hanno potenziato il personale. Calcio, tutti i campionati fermi, dalla seconda categoria in giù. Si tenta di giocare solo oggi al Polisportivo, la partita Belluno-Cartigliano, e domani fino alla prima categoria. Chiusa da ieri anche la 251 nella zona di Barcis. La neve è bagnata e pesante, c'è un forte rischio valanghe. È di grado 4 sulle Dolomiti, 3 invece sulle Prealpi. E poi sul Corriere delle Alpi continuano le cronache del maltempo, questa volta però riferite a Venezia. Chiusa la piazza, l'emergenza continua, acqua grande bis, ma Venezia resiste. La città si rialza in silenzio, senza proteste, mentre la macchina del turismo non si ferma, nonostante i locali chiusi. Due maree eccezionali, prima volta da 150 anni. Mai si era verificata una situazione così grave e prolungata. Le previsioni annunciano perturbazioni per oggi e martedì. Riaprono anche i musei, da oggi Palazzo Ducale e le altre sedi in piazza. E poi tante testimonianze che danno conto di quelle che sono state le conseguenze per Venezia e anche naturalmente ci sono le cronache delle visite da parte delle autorità anche politiche e gli impegni che vengono assunti per aiutare quanto più possibile la ripresa di questa città che è un simbolo per tutta Italia. E sempre sulle pagine regionali segnaliamo sul Corriere delle Alpi quella dedicata all'occhialeria. Ieri si sono svolti all'Ongarone gli stati generali dell'occhialeria, formazione, made in Italy, tecnologia. Queste le sfide del nostro futuro. All'Ongarone si sono confrontate per la prima volta le aziende del distretto, evidenziando i punti deboli e le forze del settore. Ed eccoci sulla parte che il giornale riserva alla provincia di Belluno. A Cicguambao la proprietà è irremovibile. Stabilimento chiuso a fine febbraio. Si tratta dello stabilimento che si trova a Mel. Ieri l'amministratore delegato cinese ha precisato alle RSU che l'attività proseguirà fino alla fine dei soldi. Futuro a rischio per 285 lavoratori. L'assessore regionale Donazzan ha libiti dalla mancanza di rispetto delle regole. Ancora ladri a Caleipo e Cavarzano. Rubati gli ori. Fermato sull'auto senza patente, polizza e revisione. Multe per 1.300 euro. Il CAI Belluno riapre, per così dire, la parola scritta tra virgolette, la schiara. Solo due sentieri sono chiusi. Terminato il tour de force estivo per la messa in sicurezza dei tracciati. Off limits due delle quattro ferrate. Prossimi lavori per Marmol e Sperti. Troppo traffico in via di amici sa Belluno. No al nuovo piano della viabilità. I residenti iscrivono al sindaco per evitare l'istituzione di sensi unici in via del Favero e Primo Maggio. Solo criticità. E sempre da Belluno, comune, associazioni edite al lavoro per gli eventi di Natale. Comuni confinanti. Fondo. Il fondo, appunto, quello dei comuni confinanti, decisivo per contrastare lo spopolamento. Demenech e i 440 milioni per il quinquennio 2019-2023. L'agente di Montagna ha bisogno di servizi e innovazioni. Si tratta della cronaca dell'incontro che i responsabili di questo fondo hanno avuto a Roma con il ministro Boccia. Furto in casa a Limana. Spariscono gioielli per 5.000 euro. I proprietari erano assenti. I ladri hanno sfondato la porta-finestra della cucina e messo a suo quadro la camera da letto. I giovani brasiliani celebrano i legami con il longaronese. La figura di Heidi Damian, ricordata a Urussanga con un concorso studentesco, l'iniziativa e la prosecuzione del lavoro fatto in parallelo con la media Gonzaga di Longarone. Il comune agirà a Valdort, ma tutti facciano la loro parte. Si tratta del comune di San Tommaso a Gordino. Acqua gialla. Il sindaco Deval assicura sulla sistemazione della vecchia sorgente. A breve convocheremo la conferenza dei servizi per la sistemazione a Monte. Messa a norme dell'ospedale di Agurdo, via al piano, da 770.000 euro. Ed eccoci a Feltre. Sconto nella bolletta rifiuti per chi ha usato l'ecocentro. Il comune ha stanziato 10.000 euro da dividere tra chi si è recato a smaltire la spazzatura direttamente alla struttura della peschiera almeno 12 volte. Tentano di ragionare due anziani, ladri rom, costrette alla fuga. Ieri alle 11, marito e moglie non si sono fatte distrarre reagendo prontamente. I congi sono stati spintonati. Le donne sono scappate su una Fiat tipo Station Wagon. Andiamo ancora avanti. Eccoci a Cortina. Tanta neve, schiare a Faloria, pronta all'apertura per il 22. Enrico Ghezze, a breve inizieremo a battere le piste. Poi la stagione potrà partire e approfitteremo del ponte del primo maggio per far slittare la chiusura al 3. Chiama il 112, dice che si è perso, partono i soccorsi, lui scompare. Sta assumendo i contorni di una bravata, la telefonata alle 7 di ieri di un giovane da un numero non rintracciabile che si presenta col nome di un uomo in coma. E ancora da Cortina, progetto Australia nel 2020 si riprende dopo due anni. Pio XII di Misurina, la Cardinale annuncia niente chiusura a dicembre. Il direttore generale dell'Opera Diocesana, San Bernardino degli Uberti, soddisfatta, abbiamo ricevuto una lunga serie di aperture che meritano la nostra fiducia. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che naturalmente apre con notizie sul maltempo. Maltempo, un incubo senza fine. Questo è il titolo. Ieri allerta a fondo valle per la pioggia battente e il vento. A Feltre una raffica spazza via un tetto che colpisce un'auto. Disagi anche in montagna, dove resta il rischio valanghe. In Agordino, 30 persone isolate, per uno smottamento. In angoscia, temendo il peggio. Susseguirsi di riunioni ieri in prefettura con l'incubo vaia. Ma l'emergenza, fino a tardasserata, è rimasta sotto controllo. Prorogata la chiusura delle scuole in diversi comuni. Resta l'allerta rossa nell'area tra Sedico e Lapide Montana. Di grado 4, su una scala di 5, il rischio valanghe sulle dromiti. E questa mattina, nuovo vertice. Salta a Belluno, la fiera di San Martino e gli studenti trovati a scuola, riportati a casa dai volontari. Raffica di interventi per piante cadute e interruzioni di energia elettrica nel castionese. Frane in movimento. A Feltre, l'assessore Zatta era filato tutto liscio fino a sera, quando le folate hanno iniziato a sferzare la zona. Vigili del fuoco al lavoro, anche lungo la provinciale Madonna del Piave, per ripulire la carreggiata. Frane sulla strada. Carfond se nevica. Frazione isolata. Alberi a terra e massi sono precipitati a valle. Un fronte di circa 30 metri e ora si teme in caso di peggioramenti. Questi alcuni titoli che il Gazzettino di Belluno riserva all'ondata di maltempo. Andiamo avanti sul giornale. L'occhialeria disegna il suo futuro. Strade e infrastrutture al passo con i tempi, lotta ai marchi, contraffatti, maggiore specializzazione, pilastri del futuro. Il settore si conferma polo trainante per l'intera economia provinciale e regionale. Provincia e regione schierate al fianco del suo sviluppo. Questo, in sintesi, risultato degli stati generali del comparto ottenutisi a Longarone. Comuni di confine, 167 progetti. Ieri a Roma, l'incontro tra il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, e il presidente del fondo, Roger Demenek. Due le linee emerse. Utilizzare le risorse per stimolare gli investimenti dei privati e per finanziare i servizi. Il calendario storico dell'arma ha quota un milione di copie. Quello del 2020 è una versione narrativa da leggere. Polizia, arrivano i rinforzi contro i predoni della sera. Giovedì, altri due colpi in città. Uno è stato sventato. Bolletta rifiuti più leggera a Feltre per gli utenti dell'ecocentro. Il comune ha predisposto un fondo da 20.000 euro da dividere tra i cittadini. Cambiano gli orari di apertura. Cancelli chiusi la domenica. Lunedì sarà potenziato. Fiera della biodiversità, semi e prodotti antichi in mostra. La rassegna si terrà nell'area degli impianti sportivi di Rasai, in comune di Seren del Grappa. La truffa ai due pensionati non va a segno. Spintonati, coppia di donne in casa vengono scoperte e scappano. Nuova illuminazione più risparmio ad Aune. Bambao conferma l'addio presi in giro dai cinesi. Mister Wu annuncia la fine dei fondi, ma sicura che si lavora una vendita. Sciopero immediato e assemblee. Bona, un'offesa allo Stato italiano. Casere Stellaviere, rimesse a nuovo per ampliare l'offerta Nevegal. Risaldato il gemellaggio brasiliano in Valle del Biois. Una delegazione della Valle del Biois a Massaranduba, dove la chiesa è una fotocopia di quella di Vallada. Filodramatica d'Ampezzo, oggi esordio stagionale con Frankenstein. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci. Grazie.